Sì, ma è chiaro, già me l'immagino, tu sei tutto caloroso, non fai casino. Ma mi metto tutto. Cosa sulla voce? Geniale. No, no, non si può fare, no, cioè la prima sera, così io ho bisogno di certezze. Ma poi la mia piccola sensibilità si contraffogna il progresso materialissimo maschile. E si rimane... Ho capito, ma lo sai, come dice il guru Pupilli, tu sai che le donne in ogni corso si pagano, quindi... Le parole hai fatto già abbastanza, vorrei... Beh, hai fatto un investimento sul futuro, dai, no, io la sento. Non potrebbe cominciare stasera questo futuro insieme? Io, sai, vengo ancora da quella storia in cui quando ero piccola, mio cugino, lo sai? No, no, non posso, non posso. Non mi puoi chiedere, se mi rispetti come donna, non me lo puoi chiedere questo stasera. A me ti rispetto tantissimo come donna, ma devi capire che un uomo arrivato a un certo punto la sua vita ha bisogno di sentirsi, ha pensato... Ti ho apprezzato moltissimo. Tu, guarda, posso farti una carezza? Posso apprezzarti così? Ma una carezza... Quindi, hai detto, babbo, dove fai la sua bocciola? Se no io lo faccio io, al limite, me ne ho messo. Basta che lei somma dello giudofono, perché hai detto che io do la mattina, sei a tre, alle sei.